Finalmente parte il progetto Condominio Solidare, un condominio di 36 alloggi di cui 8 riservati a nuclei con persone disabili e tutto il resto per anziani autosufficienti che avranno anche la possibilità di avere dei servizi comuni con la presenza anche importante di 3 assistenti familiari che a turno saranno presenti nel condominio. I nuovi alloggi dovrebbero essere consegnati tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 nel lungamente atteso complesso di edilizia residenziale di via Fornace ad Altobello. Quella che viene chiamata colloquialmente badante di condominio garantirà la sorveglianza agli anziani in caso dovessero sentirsi male e potrà dare una mano per le necessità di tutti gli inquilini del palazzo. La volontà forte che vogliamo dare a questo intervento è quella di rallentare il più possibile l'ingresso nelle case di riposo, quindi tenere l'anziano il più possibile nella sua casa e affiancandolo con i servizi che l'amministrazione comunale può mettere a disposizione. Non è quello delle persone fisicamente lì, le assistenti familiari, ma la rete intera dei servizi che il Comune di Venezia offre agli anziani e ai disabili. Il palazzo si trova all'interno del cosiddetto campo dei sassi, parte del più vasto contratto di quartiere i cui lavori sono proceduti a rilento tra mille difficoltà, soprattutto a causa dei ritardi di Ater. Subito dopo il bando per gli inquilini, aperto fino al 4 agosto, vi sarà quello per selezionare le assistenti familiari. Quattro persone in tutto che si daranno il turno per garantire una presenza H24. È un condominio sperimentale a Venezia, sperimentale anche in Italia. Il bando per iscriversi alla graduatoria è appena uscito, quindi gli interessati, siano essi nuclei con anziani autosufficienti o nuclei disabili, possono fare una richiesta e essere messi in graduatoria che verrà resa pubblica poi a settembre.